Ciao turisti, oggi è un video molto speciale per me, non su voi, ma io sono innamorata dei luoghi della Germania, quindi scopriamo insieme la Romantische Strasse. La Romantische Strasse, anche detta da molti Romantische Strasse, in italiano strada romantica, è uno dei percorsi più belli della Germania e il percorso turistico più visitato nel mondo. Percorre la Germania da nord a sud, partendo dal meno fino alle Alpi della Baviera. Questo percorso romantico nacque grazie a dei turisti americani, i quali, affascinati da questa strada negli anni 50, la chiamarono Romantic Road. Correndo la strada puoi ammirare i meravigliosi paesaggi naturali, con corsi d'acqua, di sese di prati e tanto altro, ma questo percorso è caratterizzato anche da numerose cittadine e monumenti. Sono molteplici le cose da visitare lungo questa strada, per questo, quando si parte alla scoperta del luogo, si deve avere bene in mente cosa si desidera visitare. Oggi però proverò a darti alcuni consigli. Tra i primi luoghi da visitare, ti consiglio la cittadina di Fussen, al confine con l'Austria. Fussen è ormai una città antica, con molti edifici risalenti all'età gotica, come per esempio lo Hoesschloss. Altra città da dover visitare è Augusta, la seconda città più antica della Germania e la terza più popolosa, circondata da affascinanti palazzi risalenti al Cinquecento. Continuando poi il nostro percorso, un'altra città importante è Rotenburg, una piccola cittadina medievale, considerata una delle più belle dal punto di vista turistico. Quando arrivi in questa cittadina, ti consiglio di fare il percorso lungo le mura medievali della città, dove scoprirai le stradine e i palazzi della città, ma dall'alto. Un'altra cittadina bellissima da visitare è Würzburg, situata lungo il meno. Oltre ad essere molto antica, è stata anche sede vescovile ed è oggi una città universitaria. Tra le principali attrazioni trovi la residenza, patrimonio dell'umanità. Pensa che Würzburg fu rasa al suolo ben due volte, una volta durante la storica guerra dei Trent'anni e una seconda volta durante un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Puoi poi visitare anche numerosi castelli. Tra i primi castelli da poter visitare trovi quello di Neuschwanstein, del re Ludwig, il re delle fiabe, cugino della principessa Sissi, che con questo luogo così particolare e romantico ha voluto in realtà omaggiare il grande compositore dell'epoca, Richard Wagner. Di questo castello ne abbiamo in parte già parlato nel video dei luoghi della Disney, ma fammi sapere nei commenti se vuoi un video apposito su questo meraviglioso luogo. Troviamo poi altri due castelli. Il castello di Schillingsfurst, situato nella Baviera, su una montagna. All'interno i turisti possono visitare il giardino del Cardinale e la chiesa romanica con le finestre gotiche. E poi trovi anche lo Schlossbalder, che conta la più grande collezione di armi in Germania. Hai mai visitato qualche luogo della Romantische Strasse? Fammelo sapere nei commenti. Se vuoi scoprire altri contenuti, seguimi sulle varie pagine social, mi trovi su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest. Nella descrizione trovi vari link per le varie pagine social e per il mio sito web. Sappi che con il prossimo video andremo alla scoperta di una collezione privata, la collezione della scuola di Posillipo.